La nostra storia, prima che essere una storia di un'impresa, è la storia della nostra famiglia. Sono Riccio Pedrazzoli, per come lo conosciamo. È nato nel 1951 da un sogno, da un'idea di mio nonno, da operaio in una salumeria, fonda la propria impresa. Tutta la nostra famiglia, anche nelle generazioni più lontane, ha avuto come filo conduttore di allevare e produrre salumi. Così la qualità dei nostri prodotti continua a non avere segreti. A parte il tempo, sette delle materie prime, è la nostra passione. Siamo sempre quegli artigiani di un tempo. Artigiani, certo, ma anche allevatori. Allevatori al 100%. Negli anni, a partire dagli allevamenti bio, abbiamo sviluppato una vera filiera integrata. Ed è proprio questo che ci contraddistingue. La nostra filiera è composta da società agricole del territorio, di proprietà della nostra famiglia. E questo nostro modo di allevare è connesso con il territorio, la natura, gli animali. Serve a garantire l'elevata qualità del prodotto che tutti ci riconoscono. Per noi fare un buon prodotto significa partire da un'ottima materia prima, da un prodotto sano a monte, dalla scelta oculata di carni adatte. Un suino nato per essere stagionato, per essere trasformato in ottimi salumi e per non essere esasperato da una tecnologia che è migliorata anche quella, ma che non deve prendere il sopravvento rispetto a quella che è la materia prima di partenza. Ecco la differenza rispetto alle altre aziende. Noi, visto che siamo allevatori, siamo macellatori e siamo anche trasformatori, diamo valore alla cosa più importante, cioè alla materia prima. Ed è lo stesso che è accaduto per l'altra grande nostra sfida. Sfida vinta, quella del bio. Quando abbiamo iniziato a produrre la linea primavera, nel lontano 96, l'abbiamo fatto cercando di rispettare anche quella che era la filosofia aziendale, nella riduzione dei conservanti, nel non utilizzare il glutine, cercando di evitare l'utilizzo di latte o derivati del latte. Al di là dell'ingredientistica, ciò che differenzia il biologico dal prodotto convenzionale è sicuramente l'allevamento biologico free range, che rispetta in modo particolare la vita dell'animale e il suo benessere. La nostra è una strategia di sostenibilità a 360 gradi, sia a livello macro, tramite l'impianto fotovoltaico, che produciamo energia pulita, e anche in senso micro, perché dai mobili agli imballaggi, ai materiali, le carte che utilizziamo, sono tutte FSC. Oggi noi facciamo bio perché pensiamo bio. Grazie. Grazie a tutti.